Questo è veramente piccolo. Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale di auto più veritiero, sincero e provocatorio che potete trovare su YouTube. Oggi ho con me una Renault Grand Scenic, l'ho detto bene, Renault, 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 quello che volete, con un motore veramente piccolo in confronto al corpo dell'auto, cioè alla stazza del dell'auto, è un bestione macchina, Grand Scenic, è un 5P1, quindi è un 7 posti, cambio automatico doppia frizione, 7 rapporti, con un motore da 140 cavalli che però è un 1.3 ragazzi. E come al solito sapete chi è un abitué del mio canale, che vi faccio vedere le auto come sono costruite nel modo più veritiero possibile, perché a me non mi paga nessuno per fare i video ragazzi, io vi faccio vedere le auto come sono belle, brutte, poi molte cose sono impressioni personali, però sono molte volte, anzi il più delle volte sono dati oggettivi e non soggettivi, in quanto un motore 1.3 su questa macchina io penso che sia un po' piccolino. Comunque bando alle ciance se siete interessati ad acquistare questa macchina usata, nuova o come volete. Questa macchina è una macchina del 2019 a circa 60.000 chilometri all'attivo, quindi non è usurata, naturalmente non fa parte della rubrica come ridotta, ma bensì come è fatta. Infatti iniziamo a vedere che ha i sensori anteriori, quindi è già allestita abbastanza bene, fari fenninebbi e sono belle anche queste belle modenature cromate. Le plastichine, sono le plastichine Renault che, guardate, se io muovo qua mi si muove tutta la macchina anche perché questi, i parafanghi anteriori, sono fatti in plastica. Fari lenticolari a led, vedete tutti i led che troviamo sopra e sotto il faro lenticolare, è una bella musata, sensori nel parabrezza, luci e lavavetri, frecce sugli specchietti, cerchi in lega, imbarazzanti cerchi in lega da 20. Guardate quanto sono grandi questi cerchi in lega. Chiusura e apertura. Tramite la chiave a tessera che è una normalissima chiave Renault che è uguale a tantissime altre macchine, forse la fa anche la Renault Mega normale, la Clio e quant'altro. Vedete le freccettine modenature cromate su tutti i finestrini e guardate l'auto, la linea che ha. È veramente carina, devo dire che è molto futuristica, nonostante sia una macchina del 2019, anche posteriormente abbiamo led e anche lampadinette, vedete qua, però anche una serie di strisce led, sensori posteriori, ha la telecamerina qua, la retrocamera e questa macchina ha anche una bella ruota di scorta. Guardate sotto com'è, scarico rivolto verso il basso e coperchio per accedere al bocchettone del carburante, in questo caso della benzina, sul lato destro dell'auto. Lunottino abbastanza piccolo per la stazza dell'auto, vedete che ha il terzo stop qua, l'ugello per andare a spruzzare l'acqua per il tergil 1.8 e per il resto ragazzi, guardate, auto naturalmente questa è nuova in perfette condizioni, io adesso sono andato a chiuderla ma andiamo a riaprirla tramite la sua chiavetta. Vedete che ha i retrovisori abbattibili elettricamente che sono anche abbastanza grandi, ma andiamo a vedere all'interno quest'auto. Devo dire che queste plastiche sono morbide, penso che col tempo reggeranno, ossia non vibreranno come una plastica che ho già visto nel cofano posteriore, nel vano posteriore. Manigliette, queste sono in plastica, infatti vedete che si vede proprio la linea di come sono state fuse. Alza cristalli elettrici anteriori e posteriori, ribaltamento dei retrovisori, regolazione degli specchietti retrovisori. Anche qua è una sorta di, non penso sia pelle vera, magari è simile pelle, piccole tasche e casse, macchina che ha già fatto un paio di tagliandi anche perché ragazzi questi motori benzina vanno tagliandati non regolarmente ma di più perché essendo piccoli, sono sovralimentati, 1.3 turbo, 140 cavalli. Il consumo d'olio non è ottimale, quindi teneteli sempre sotto controllo, controllate l'olio ogni 5 bar 8.000 km. Dico non controllate, non vi sto dicendo di andare a fare il rabocco ma controllatelo 5-8.000 km. Selleria in tessuto, normalissima però i sedili sono belli avvolgenti, guardate, questo è il cricchetto. Per sollevare il sedile e regolarlo in altezza, naturalmente vedete queste tracce di salsedine perché era un veicolo adibito all'autonoleggio, come vi ho detto cambio automatico quindi l'auto ha solo due pedali. Piccolo portaoggetti, regolazione dei fari, bocchettine dell'aria con cromature e vedete anche questa plastichina è morbida, riesco a schiacciarla con le mani quindi questo fa sì che la macchina non vibri tantissimo non avendo plastiche rigide. Il volante è regolabile in altezza e in profondità, le vetina per aprire il cofano anteriore che dopo andiamo a vederci e adesso andiamo a vedercela ragazzi internamente. Sedile tutto tirato indietro e guardate qua, il volante è un bel volante in pelle, comandi sul volante, adesso andiamo anche accenderla. Motore acceso ragazzi, basta cliccare il freno e pigiare sul tasto start and stop, basta avere la chiave nella tasca. La strumentazione è totalmente tutta digitale, levettina per i fari, levettina per i lavavetri e qua abbiamo un comando che io non sopporto nelle Renault perché è qualcosa di veramente orrendo perché è qualcosa di a mio avviso vecchio e anche molto scomodo da azionare perché quando sto girando io non ce l'ho più sotto mano se invece ho tutti i comandi nel volante posso fare quello che voglio anche se sto girando il volante. Un'altra cosa che non mi piace di questa macchina ragazzi, poi naturalmente è tutto personale, è l'infotainment messo qua sopra stile Volvo del 2010 che va a sovrastare le bocchette dell'aria, vedete che sono qua, belline le cromature però. Molto anonimo, sembra, non lo so, non so neanche cosa dirvi perché è molto anonimo, tasti veramente molto 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 piccoli, è tutto touch e molte volte touch e non touch perché touch e non touch. Cambio automatico, regolatore di velocità, limitatore di velocità, freno a mano, naturalmente blocca ruote, elettronico, grande bracciolo da questo lato che all'interno è veramente piccolo perché il vero vano è qua sotto ed è qualcosa di enorme, ci stanno dentro un paio di bottiglie di acqua da due litri, qua invece abbiamo un paio di porte USB e una porta AUX. Vano porta oggetti, vado ad aprire, caduta controllata, refrigerato e illuminato ed è abbastanza capiente. Naturalmente è tutto bello solido ragazzi. Una cosa che non mi piace è che potevano mettere un sistema di anti abbagliamento elettronico invece che manuale, questa macchina è piena di optional, alettina parasole con specchiettino e luce, questo è il microfono del viva voce, grande plastica per le plafoniere e due plafoniere microscopiche e anche questo avrebbero potuto mettere magari una plafonirina più grande e anche una plafoniera al centro dell'auto perché vedete quanto è grande l'auto, sembra un pullman, ha le manigliette e ha delle piccole plafonirine che però sono veramente molto 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 piccole, quindi magari non illuminano a sufficienza l'abitacolo. Visibilità è veramente fantastica nonostante ci siano questi due pezzi di montanti che però diciamo che non influiscono sulla visibilità perché anche se ti passa un pedone riesci a vederlo. Tasto di eco, condizionatore come vi ho già detto, ecco il touch, è tutto regolabile, non mi piace questo colore profondo rosso perché sembra un filter di dario argento, belline le cromaturine. Io adesso vado a chiudere questa velettina che è qualcosa dove magari ci posso anche poggiare qualcosa sopra e vedete qua, qua sotto c'è una piccola maniglia, io vado a scorrere e questo torna tutto indietro lasciandomi spazio e lasciandomi anche questo bellissimo portabicchieri. Ci metto due bicchierini qua, ho due bottiglie e quindi ho questo ingombro bello libero e questo devo dire che mi piace perché è una cosa molto originale. Ma adesso andiamo a vederci come al solito le sedute nei posti posteriori, vi parlo di questi posti posteriori ragazzi, sedile tutti e due tirati indietro, c'è una marea di spazio perché anche i posti posteriori camminano. Auto naturalmente studiata per le famiglie, guardate, tendina che vado a sollevare e mi fa l'effetto privacy, maniglietta uguale all'anteriore, come vi ho già detto, vedete che i posti hanno una slitta quindi possono scorrere, li posso ribaltare e posso ribaltare anche i sedili per far andare a sedere le persone nei due posti di salvataggio, diciamo come vi ho già detto, è un 5 più 2 quindi abbiamo due posti posteriori a scomparsa. Taschine nei sedili posteriori, guardate quanto spazio c'è, ecco due cose intelligenti anche se in questa macchina così grande ci sarebbe voluta una presa per il condizionatore, due caricabatterie, un vano enorme a scomparsa e una porta accendisigari. Gli interni sono naturalmente Isofix, vedete di cosa vi stavo parlando, questi lumicini veramente da chiesa sono imbarazzanti perché non riescono ad illuminare l'abitacolo in modo decente, perché sono veramente troppo troppo piccoli. La cosa buona è che nonostante non abbiano messo una bocchetta dell'aria adeguata al centro del tunnel, ne hanno messe due piccolissime qua che diciamo possono aiutare la reazione dell'abitacolo, nonostante vedete sono veramente molto 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 piccole. Le cinture naturalmente sono regolabili in altezza, l'airbag ce li ha a tendina e adesso vi faccio vedere i due posti di fortuna posteriori. Il sistema di ribaltamento del sedile è semplice, c'è una piccola levettina qua, si porta giù e la gente può salire qua dietro, vedete io cerco di sollevarlo tramite questa leva e faccio accedere gli altri componenti ai posti posteriori, naturalmente come vi ho detto a mio avviso sono due posti di fortuna perché io voglio vederti fare un viaggio di 300-400 km seduto là dietro con le gambe ranicchiate perché lo spazio è veramente piccolo quindi magari ci possono salire due bambini e roba del genere. Li posso anche ribaltare quindi vado a chiuderli e la utilizzo come una normale 5 posti che alla fine, secondo me è la cosa più giusta. Per farla diventare di nuovo un 5 posti è semplicissimo, fettuccia e fettuccia, vado a tirare la fettuccia e il sedile si ribalta totalmente, vedete, e diventa un pianale unico. La macchina come avete visto ha la ruota di scorta e qua rimane lo spazio per metterci la veletina che poi va agganciata da questa parte per coprire il bagagliaio e il kit per sganciare e smontare la ruota che si trova sotto. Le cinture sono qua, piccola luce d'emergenza è una cosa utilissima, l'ha presa 12 volte e queste sono cose veramente molto molto utili. Una cosa che, come vi stavo dicendo prima, è che la plastichina del cofano è un po' troppo ballerina, vedete, è una plasticona enorme e sicuramente ha delle piccole pecche, però tutto sommato l'auto è molto molto buona, ma adesso andiamo a vedere il suo cuore. La leva l'abbiamo già vista, vado a tirarla e adesso ho aperto il vano motore. Levettina su questa macchina la trovo da questa parte, cosa molto molto utile, pistoncini del cofano, pneumatici, che vorrei si trovassero in tutte le auto, perché ancora vedere queste auto con questa astina di ferro brutta, vecchia, non si può vedere, le devono fare tutte con i pistoncini, d'altronde con quanto costano. Ed eccolo qua, il piccolissimo 1300, spazio per mettere le mani naturalmente non ce n'è, questo motore penso sia l'incubo di ogni meccanico, perché per andare a verificare qualsiasi cosa devi smontare una marea di roba. Però, come vedete, plastichina che si muove, addirittura si muovono anche i dadi, però questo sapete che è per via degli incidenti e degli urti, le macchine vengono costruite adesso con tantissime parti in plastica. Motore microscopico, non si capisce nulla se ci devi mettere le mani. Questo è il tappo per andare a fare il rabocco dell'olio e l'astina ce l'abbiamo qua. Qua ci vado a mettere l'acqua dei lavavetri, vedete, proprio in mezzo a questo montante che va a agganciarsi a questa struttura scheletratura che è tutta in plastica. Quindi sapete che basta prendere una piccola botterellina e qua si andrà a disintegrare tutto, bisognerà cambiare tutto, perché ormai le macchine sono fatte tutte così, tutta scomparsa, tante vitine in metallo, però tanta plastica che copre tutto. Qua sotto sicuramente si trova la batteria, invece la vedete qua, fusibiliera e questo è il tubo che convoglia poi all'aria. Ragazzi, cosa ha a dirvi? Pochissimo spazio, macchina che va fatta controllare esclusivamente a meccanici professionisti del settore, perché altrimenti qua il pino pompetta di sotto casa, secondo me, non ne capisce granché l'acqua, qua andiamo a mettere il liquido del radiatore e questo DOT4, vedete, è l'olio dei freni, tutto sommato, è una macchina che è familiare, sì, ma non penso per una macchina per lunghi viaggi, anche perché con un 1.3 a benzina, macchina che pesa abbastanza, il lungo viaggio vi costa veramente tanto, vi conviene farvi un biglietto dell'aereo. Comunque, detto questo, come al solito, tutto quello che sapete voi su questa macchina lo potete scrivere nei commenti e se non siete ancora iscritti, cosa state aspettando? iscrivetevi. Per oggi è tutto, grazie, alla prossima.